Arte borderline di artisti alla Liga Bue, il pittore naif del Lungopo senza regole morto in manicomio dove se ricoverato smetteva di dipingere. Fa girare la testa. Gli outsider creativi dei più quotati atelier della capitale insieme a San Marino in una collettiva per cacciatori di teste, quasi una craniografia della forma scultura e dell'icona pittura. Muovere la testa, agitare e scuotere il capo. Irregolari dell'art brut, non catalogabili questi genialoidi del tratto. A spatola, scalpello, pennello e in grafica. Giro, giro, sbatto la testa, poggio il capo su di te e ti amo. Per la prima volta in mostra al prestigioso Museo San Marinese San Francesco dove capogiro è avanguardia purissima. In punta di capello, testa, capo, capelli, soggetti d'arte per gli irregolari della pittura e della scultura. Giano Bifronte Giano Bifronte Giano Bifronte Giano Bifronte